Zappacosta, secco a che si che lo mette giù secondo l'arbitro, c'è fallo, riparte il Milan con Messias, darci profondità per Leao, attenzione Leao, 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 in area, Leao, Leao, passato il tetto, tiro, ha segnato il Milan, esattamente all'undicesimo minuto, nel corso del secondo tempo, cambia il parziale a San Siro, rappa Leao in campo aperto, è incontenibile Eh sì Francesco, davvero cambia questo risultato, ora staremo a vedere perché i giocatori dell'Atalanta si stanno lamentando per un fallo appunto di Messias che poi è bravi, Nandez, Nandez, sinistro, mamma mia Teo e Nandez, il raddoppio del Milan, coast to coast del numero 19, pallone sul sinistro, diagonale vincente che prende in controtempo Musso e il Milan raddoppia con il suo terzino sinistro